Un torneo fortemente voluto dalla Fondazione, al quale apporgiamo i nostri più grandi ringraziamenti. Un grande ringraziamento anche all'Inter Club Prato Nell'Azzurra che ci ha sostenuti nell'acquisto delle coppe. Il torneo è diviso in tre, c'è il torneo magistrale riservato ai professionisti, il torneo intermedio e il torneo dei debuttanti.